allora ho fatto un giro sui principali siti americani ho ascoltato anche strati da podcast e da radio show e la situazione che mi sono fatto nella testa di Cody è la seguente l'atleta ieri sera in Illinois non ha combattuto e già qui la cosa puzza doveva fare uno street fight match contro Seth Rollins c'è stato un angle ad inizio show il visionario lo ha attaccato la battaglia è saltata c'è stato un match sostitutivo al termine del quale Cody è emerso dagli spogliatoi e ha inseguito Rollins senza che tra i due ci fosse un alterco fisico non è una cosa che WWE fa di solito reclamizzare un match dire che un atleta sia infortunato con quell'atleta presente in loco che comunque si fa vedere dagli spettatori ora se se Cody è davvero infortunato e se c'è uno strappo ai pettorali o uno stiramento leggero quindi qualcosa di un pochino inferiore decideranno i medici prima dello show magari proprio ora ci sarà o è in corso una valutazione di Cody Rhodes la situazione non sembra positiva se l'infortunio è questo dobbiamo sempre mettere un condizionale se c'è uno strappo ai pettorali o anche solo uno stiramento c'è la fortissima possibilità che Cody non combatta di solito quando c'è uno strappo ai pettorali la WWE impone agli atleti l'operazione un'operazione di solito vuol dire sei mesi di stop a volte anche otto o nove è raro almeno da quello che ho visto che ci sia una fase di recupero più rapida è possibile perché tutti i wrestler sono diversi ma la tempistica è questa se Cody non ce la fa cosa succede ci sono diverse ipotesi sul tavolo la prima è che la WWE giri anche durante LNSL uno scenario un angle in cui Cody si infortuna viene attaccato nel backstage c'è qualcuno che gli fa male Seth Rollins lo legna prima che inizi l'incontro nella gabbia in questo caso LNSL in programma salta ma WWE potrebbe darcene uno sostitutivo le opzioni sono Seth Rollins rimane nell'LNSL e contro di lui scende in campo un altro avversario tra quelli blasonati che al momento non hanno un incontro nella card ci sono Roman Reigns e Drew McIntyre se disponibili e se preallertati potrebbero essere delle soluzioni molto difficile e complicata Roman più viabile Drew McIntyre oppure la federazione potrebbe trasformare uno dei match già presenti in card in LNSL perché altrimenti non ne avremmo nemmeno uno il più indiziato è quello che vede in paglio la cintura di campionessa femminile di Raw quindi Bianca Belair Becky Lynch e Asuka anche se organizzarlo in poche ore o in un giorno un giorno e mezzo ipotizzando che le ragazze siano state messe sul chi va là già ieri non è una cosa semplice insomma pensare gli spot organizzarsi e poi le sfide a tre nella gabbia hanno un fattore di rischio e di complicatezza ragionativa sicuramente molto molto più alta e più alto rispetto ad una classica battaglia one on one quindi questi sono gli scenari che al momento si stanno delineando è davvero un peccato che stia girando questa news e soprattutto non abbiamo certezze la speranza è che Cody non abbia un problema così grave e che riesca a farcela combattere senza poi doversi fermare perché c'è questa beffa dietro l'angolo magari stringe i denti magari i medici capiscono che ce la può fare ma potrebbe essere anche un ultimo one shot prima di tanti mesi di pausa e questo metterebbe subito uno stop al suo grande ritorno e alle tante fisce che la wb ha subito scommesso su di lui come protagonista dei mesi estivi ora tra qualche ora sapremo la verità vi ricordo ancora una volta che c'è la live reaction sul mio canale twitch dalla 1 e 30 e scopriremo tutti insieme qual è la verità durante all'insale o alla peggio da ora entro la fine della prossima puntata dirò